che bella l'america strade larghi e dino caso street ma ma su cazzone ancora bene ancora bene su cazzone scusate mister mico oh mister mauro mauro che lo caffesi tu no no me lo bevo il caffè ma sono mister mauro da new york come è stato don mico e insomma venne qua che mi ha mandato a chiamare l'ambasciata avete fatto un buon viaggio vi hanno trattato bene? si 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 andate all right c'era una bella hostess certo certo caro amico come mai mi hai chiamato è una questione d'onore donore donore di furto diciamo furto si furto 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 gli hanno fregato la targa di casa di mio cugino veramente certamente è chiamato la mia e solamente voi potete aggiustare questa cosa ah si ma voi sapete qui come vi sanno sentire a voi si voi siete famosi con il soprannome terramoto terramoto e terramoto facevo e mi raccomando la deve pagare la deve pagare sto carnuto come a voi ma scusate perché signor io mi ho chiamato ah così ma come mi hai pagato come lo vede in dollari in euro no in euro in euro e in euro sia prego 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 5.000 prendetela tutte 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 ve lo dico pure cantando la vera storia di terramoto ah davvero si e fatemi sentire